Serum Age Viso Biostaminale Alinea Olos un serum che va applicato sotto le creme per intensificare l'azione ecco qui si presenta in una pratica confezione con dosatore basta pigiare 2 o 3 volte e poi applicare il prodotto su viso, collo e decolleté e massaggiarlo fino a completo assorbimento abbiamo all'interno del prodotto cessori d'ossigeno per portare il giusto ossigeno alle cellule del viso in più abbiamo cellule staminali vegetali di mela verde proprio per ritardare l'invecchiamento metabolico delle cellule del viso così da presentare sempre un viso fresco, luminoso e vitale ciao!